musica bene, adesso andiamo a cambiarci e ci vediamo direttamente sopra le moto vai patata bene fan, siamo qua in pista colico, non trovavo le pedane della moto ma è diversa la moto dall'altra volta sono nuove queste adesso scaldiamo le gomme e poi do pagaluna come al solito vabbè comunque puoi andare davanti te posso andare davanti io subito già al riscaldamento? sì perché mi copie traiettorie poi e vado davanti io o mi devi far passare però oh ma sei qua attaccata la porche oh lì sta dietro, lì sta dietro zitta zitta eh maledetti 20 kg in più di ciccia ti aspetto qua dopo il traguardo 1.39 1.32.2 incredibile l'ho grattata bene le saponette porca vacca ho detto due parti guarda, vieni così guarda qua guarda qua vai avanti che ti guardo valita perché clicca guarda qua non finestracca non con non le il